Siamo partiti bene, poi sono stati bravi anche gli avversari a crearci alcuni problemi. Una volta presi le misure, come hai detto tu, si è riusciti a mostrare quello che facciamo in allenamento per cui ci impegniamo tutti i giorni per cercare di fare nel migliore dei modi. Alla fine è venuta fuori un'ottima prestazione e per essere una delle prime partite dove siamo al completo ci possiamo ritenere soddisfatti. Grazie mille. No, assolutamente. Nasco come esterno di difesa o di centrocampo, però sono stato già impiegato in passato anche se non molte volte come terzo di difesa. È un ruolo che comunque mi piace fare, cerco di interpretarlo nel migliore dei modi e penso di poter ricoprire entrambi i ruoli. Sicuramente ci sono ancora un po' di carichi di lavoro da smaltire. Gli allenamenti sono molto intensi, quindi sicuramente la forma migliore poi arriverà con un po' più di tempo, più avanti, partita dopo partita. Credo che i presupposti sono buoni. Ho giocato molto spesso contro le squadre del mister e hanno sempre spesso un ottimo gioco, quindi sono sicuro che quest'anno anche noi esprimeremo un gioco ottimo e credo che la prestazione di oggi sia molto positiva e sia su questa linea buona. Il girone B è un girone dove la qualità di tutte le squadre si equivale, quindi sicuramente qua ci sono giocatori esperti, quindi consigli ne posso dare pochi, però sicuramente allenarsi nel migliore dei modi tutti i giorni e poi affrontare la partita con sicurezza, consci della nostra forza.